Qua facciamo un pochino più gruppo, c'è più stabilità di pallo emotivo. Sì, è poco in poco una famiglia estesa. È una soddisfazione giocare qua a Dubai, fare dei tornei mudadi, giro per i milazzi. Una palla al volo è la mia valvola di sfogo dopo lo stress del lavoro. E come diceva Sara, il ritmo qua è stressantissimo. Anche il fatto stesso di fare tornei ci rapporta sì, riportare su un po' di competizione con le altre squadre, l'adrenalina del gioco. Vogliamo vincere, vogliamo fare bene. La comunità di volleyball è qualcosa di speciale, mi sento molto ringraziata. E hai giocato da lungo tempo? Sì, da lungo tempo, circa 100 anni. Esatto. Ciò che mantiene insieme è il nostro amico e la passione per il gioco. È una famiglia, è una piccola famiglia che giochiamo in volleyball. E mi piace, questo è il team per me. La parte più difficile a Dubai è trovare delle persone con cui ti trovi bene e dopo tre anni trovare una squadra con cui ti senti in famiglia è una cosa bella. E poi condividi la stessa passione, quindi questo è importante. È come se giocassi con loro da tantissimo tempo, quindi mi sento parte di questa grande famiglia, di questo bellissimo progetto. Nonostante abbia iniziato abbastanza a Dubai e a Dubai lo scorso anno e sono felice. E' molto felice di trovare l'esperia team. E, sì, dovrei venire più tardi. A volte non lo capisco perché parlano italiano, ma l'atmosfera è bella e molto bella. Stiamo promuovendo un nuovo torneo. Probabilmente ne faremo uno nostro, in modo tale che saremo noi il centro organizzativo di queste nuove attività. Stiamo facendo diversi amichevoli, quindi tipo con skydive, con altre squadre di questo tipo, per mantenere comunque lo spirito di competizione che diceva Nicole, che è estremamente importante anche per tenere l'adrenalina e il commitment di tutta la squadra. Ho accettato la proposta di Emma di allenare una squadra femminile, la più grande sfida psicologica per un essere maschile. Questa la puoi scrivere. Siamo alla ricerca di sponsor per supportare la squadra e quindi se ci sono aziende italiane o non interessate a supportarci abbiamo una nostra presentazione dei materiali che possiamo divulgare per coinvolgerli. Grazie. Grazie. Grazie.